Innanzitutto è bene che si parli, vuol dire che il carnevale è ancora interessante e interessa a tutti. E che dire, io lascio la piena libertà di decidere e di parlare. Carla Ruzzi dice non mi piace la fana di Ceseri, tantomeno il carnevale estivo, però dice ama il carnevale invernale. Vabbè, vorrà dire che io l'aspetto alle sfilate del carnevale di quest'inverno. Quindi ce n'è veramente per tutti, il carnevale deve essere ed è una manifestazione per tutti i gusti. Noi non condividiamo, pur rispettando la legittima opinione della consigliera Luzzi, ma non condividiamo l'impostazione. Noi vogliamo portare avanti tutte le iniziative, l'avevamo detto, e quando non ci siamo riusciti è per la stretta finanziaria. Abbiamo parlato sempre a carte scoperte, abbiamo salvato tutte le manifestazioni storiche di fana, in un momento molto duro dove io sono stato tagliato per far fronte ai servizi sociali, alle esigenze più forti. Non condivido l'impostazione, perché non c'è una cultura di serie A, di serie B, sono manifestazioni tutte culturali. In ogni maggioranza, l'abbiamo visto anche in passato, con maggioranze differenti, di differenti impostazioni, ci sono le opinioni personali. Ora, un conto è le opinioni personali, un conto è l'opinione di un'amministrazione. Io qui tranquillizzo tutti, la nostra amministrazione la pensa in un modo meno radicale e molto più comprensivo di tutte le istanze della città. Noi mi abbiamo messo a disposizione, lo si vede nella città, un programma culturale e turistico a 360 gradi.